Vendesi impresa digitale nel settore della mediazione e trasporti a livello nazionale ed internazionale. L'azienda, attiva da un anno, è in fase di start-up con un fatturato giornaliero dimostrabile di 300 euro. È in ottimo sviluppo con concorrenza limitata nel settore attivo auto e digital marketing. Viene venduto il software già completo e funzionante con fornitori. L'annuncio è rivolto a imprenditori nel settore della comunicazione, trasporto e vendita auto. Al momento la sede è in un ufficio co-working di cui le spese mensili equivalgono a 300 euro. Questo video è creato con l'intelligenza artificiale per homezone.it. Non perdere questa occasione unica per entrare in un settore in forte crescita con un'impresa già avviata. Contattaci per maggiori informazioni e per concordare il prezzo. Contattaci per maggiori informazioni e informazioni e informazioni.it.